Il robot più evoluto per la chirurgia mini-invasiva si trova all'Annunziata di Cosenza. È stato installato all'ospedale Civile Bruzio il sistema robotico da Vinci dall'Università della Calabria, che trova numerose applicazioni, dall'urologia alla ginecologia, dalla chirurgia toracica alla chirurgia generale. Il sistema scelto dall'Unical è l'unico configurabile con una console chirurgica aggiuntiva e un sistema di simulazione virtuale a favore del medico discente, per favorire una migliore preparazione pre-intervento e agevolare la curva di apprendimento. Il robot, del costo di 3 milioni e 300 mila euro, è stato acquistato dall'Unical grazie alla vincita di un bando pubblico competitivo che ha poi consentito di rimodulare un precedente finanziamento regionale. Il da Vinci permette una visione tridimensionale immersiva in grado di moltiplicare fino a dieci volte la normale visione dell'occhio umano, facilita l'accesso alle anatomie più complesse, offre precisione maggiore ed anche una diminuzione degli effetti collaterali. Si tratta del primo risultato concreto, ha dichiarato il presidente Occhiuto, dell'istituzione della Facoltà di Medicina a Cosenza, perché è un investimento realizzato dall'Unical con risorse messe a disposizione dalla regione e si inquadra proprio nel contesto di questa nuova opportunità per la Calabria.